Si stringe il cerchio a Castiglioncello sui responsabili dell'attentato incendiario. Alla villa del magnate dell'edilizia, Zainutinov, le telecamere di sorveglianza della storica villa della Godilonda, avrebbero ripreso una persona, sembra un uomo, intenta ad armeggiare al cancello, proprio dove è stato appiccato il fuoco. Le immagini della videosorveglianza sono state acquisite dai carabinieri, che hanno interrogato anche dei vicini di casa, che però non sembrano aver sentito rumori particolari. No, non ho sentito niente. Al momento, gli inquirenti. Ritengono che l'atto sia riconducibile ad un'azione dimostrativa, da collegare alla guerra in Ucraina, scatenata dalla Russia, come già avvenuto anche a Roma, e in altre ville di oligarchi russi sul lago di Como. Un po' me l'aspettavo, dico la verità. Il clima psicologico, i presupposti le creava. Hanno un po' monopolizzato le ville big, quello ormai è assodato da diversi anni. Le storiche ville di Castiglioncello sono in mano ai russi. L'uomo d'affari russo, che in Italia è risulto amministratore di una più società immobiliari, avrebbe dovuto farne un resort di lusso a picco sul mare. Tutto, però, è rimasto fermo. In ogni caso, ogni estate, non fa mancare la sua presenza al mare. Da quant'è che non vengono qui? Da molto? Dall'estate. Ah, l'estate scorso sono venuti? L'estate sono venuti, sì. Per lei, brave persone? No, brave persone non lo so. Comunque sono cose che non si fanno, indipendentemente dalla guerra e dal resto. Ma c'è poi chi a Castiglioncello in qualche modo giustifica questo gesto? Non lo so se posso dire che hanno fatto bene, ma diciamo che la prima cosa che mi viene da dire è sì, perché mi sembra che per quanto mi riguarda in questa guerra non ci sono molti grigi, è tutto molto bianco e nero. Questa è una piccola violenza rispetto a quelle che vengono commesse ogni giorno contro i civili in Ucraina. Non penso sia una cosa negativa, è una reazione, è una reazione a quello che sta accadendo. Bisogna vedere cosa c'è dietro a questa cosa qui, di sicuro c'è qualcosa che va visto. È un'azione sbagliata, quello rimane di fondo, poi politicamente è disconsolto.